FRAFFI RADIO Questo Aldo è uno ebino, nel senso che io interpreto Aldo nella prima parte del film, diciamo comunque della storia, ed è un Aldo confuso, contraddittorio, forse appunto è confuso perché si contraddice. Cioè fa delle scelte apparentemente, sembra molto deciso, molto sicuro di sé, fa delle scelte terribili, che coinvolgono la moglie, i figli, cioè nel senso abbandona la famiglia. E quindi apparentemente è una persona che sa quello che vuole e lui crede di saperlo. Infatti non parla neanche, non pensa che sia un tradimento, lui pensa che non bisogna innanzitutto tradire se stessi. E poi però non calcola le conseguenze di tutto questo. Le conseguenze sono la devastazione emotiva, sentimentale che crea. E quando a un certo punto tenta di recuperare, perché il tempo è passato e questa lontananza comincia a pesare, nel frattempo il rapporto con la donna di cui si è innamorato e che lo ha, come dire, tirato a sé, allontanandolo dalla famiglia, quel rapporto comincia leggermente a sgretolarsi, ecco che Aldo decide di tornare. E qua si compie, diciamo, la parabola della mia presenza in quanto Aldo. Purtroppo per lui, diciamo, l'Aldo della seconda parte, cioè Silvio Orlando, invece, come dire, sconterà i problemi di questo ritorno. Perché c'è stato il dramma dell'abbandono all'inizio, ma questo è il dramma del ritorno, il dramma della riconciliazione, che è la premessa invece di una carnificina. È la premessa invece di un consegnarsi da parte di Aldo alle civizie, quasi, al sadismo della moglie che si vendica, diciamo, di tutto quello che aveva partito per colpa sua. E infatti è interessante vedere questo percorso perché a prima vista, almeno all'inizio, quasi sentiamo Aldo come, appunto, come dicevi tu, il carnificio. In realtà subisce un po' le conseguenze di questa sua confusione che l'ha portato a, forse, a impersonare e diventare ciò che è stato scelto per lui, o le regole, i condizionamenti. Il film mostra anche tanto questo, come siamo stati, come forse, spero, non siamo ancora del tutto. Delle regole che ti portano ad essere padre, ad essere marito. Sì, ma devo dire anzi che forse è un po' il contrario, cioè dal mio punto di vista, no, no, ma nel senso per integrare, forse dico la stessa cosa ma in un altro modo. Cioè, è proprio perché lui non voleva regole, è proprio perché lui non voleva fare il padre, è proprio perché lui voleva seguire il suo, cioè quello che è adesso, lui già lo fa. Però questo crea delle conseguenze. Forse la differenza è che lui a un certo punto gli rimane qualche cosa per cui tutto questo in qualche modo lo logora. E invece adesso il nostro egoismo, la nostra capacità di fregarcene totalmente, non crea un ripensamento, non crea un guardarsi indietro. Allora in questo senso magari, ma se invece in noi rimane questo scrupolo, andiamo, ci ritroviamo nella condizione di Aldo. A quel punto, diciamo, si aprono varie strade. Quella condizione, come Aldo ha fatto molto male, ha fatto molto male e se ne è andato molto, non è che se ne è andato soltanto, se ne è andato molto male. Allora in quel caso, diciamo, questa è la fine che è. Però se invece andando via c'è un modo che, non che addolcisce la cosa, ma che spiega, che è più autentico, che tiene conto della sofferenza degli altri, forse il ritorno è ancora possibile. Un ritorno su basi nuove in cui comincia un nuovo rapporto. Tante coppie ritornano insieme felicemente. Quindi non è una diminuzione o una resa oppure un non sapere stare da soli. Il ritorno insieme trasformati e nasce una nuova cosa, bellissima, anzi più bella di prima. Quindi non è detto che le rotture possono essere anche, le ferite possono essere anche rimarginate. Nell'affrontare questo personaggio e fare un percorso con il personaggio di crescita, anche personale, perché immagino capiti sempre, è stato complicato non chiudere il cerchio? Cioè regalare la chiusura a Silvio Orlando in questo caso? Ah no, no, no. Quasi potremmo dire che Silvio ha regalato a me l'apertura. Anche perché lui l'aveva già fatto a teatro, quindi è un testo che lui conosce molto bene. E anche nel libro in fondo è tutto ricordato da Aldo, cioè anche il libro non è in una direzione, non è la freccia del tempo, non segue la cronologia, ma ci sono degli andirivieni, ci sono. Quindi in questo senso, no, certo, ci sono dei film in cui è bello andare avanti fino in fondo, ma essendo così diverso è sempre la stessa persona, ma la situazione in cui si trova, il ribaltamento che c'è talmente forte, che è anche espressivamente forte il fatto che siano due attori a farlo, al di là della differenza che ci può essere tra di noi, espressiva, anche fisica, così, in realtà è molto interessante come esperimento drammaturgico, direi, vedere che un'altra persona prova, e in effetti Aldo è diventato un'altra persona. Grazie Luigi Locascio, in bocca al lupo per Lacci, che stasera non solo apre la mostra del cinema di Venezia, edizione 77, ma è nel cinema, quindi 100 sale potranno vedere con noi l'apertura di Venezia. Vi aspettiamo, grazie. E io sono Chiara Nicoletti e questo è Fred, da Festival Insider.